...medaglia d'argento nel concorso a squadre per la ginnastica ritmica alle Olimpiadi di Atene 2004, successivamente nel 2005 medaglia d'oro ai campionati di ginnastica ritmica. Ha vinto anche la medaglia d'argento ai campionati europei di ginnastica ritmica di Mosca del 2006 e ha partecipato anche alle Olimpiadi di Pechino del 2008 con la nazionale italiana. E sai Francesca che secondo me ha vinto anche la medaglia d'oro agli europei del 2008. Non ce l'avevi vero? Ho consultato Wikipedia. Signori, Fabrizia d'Ottavio, uno spettacolo! Grazie a tutti! 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 Noi vogliamo che tu sia a tuo agio. No, ti facciamo accomodare tra l'applauso del pubblico!